allenamento gag senza salti un workout dinamico e divertente con esercizi di facile esecuzione buon allenamento iniziamo skip alto 20 secondi tocca le mani con le ginocchia per prendere il ritmo non andare veloce 5 4 3 2 1 cambio calciata lenta ai glutei 20 secondi cerca di toccare i glutei con i talloni prima il destro poi il sinistro 5 4 3 2 1 cambio distensione braccia gambe destra a fondo laterale e porta la mano sopra la testa il passo laterale è ampio 5 4 3 2 1 cambio lato stesso esercizio verso sinistra spingi bene sulla gamba sinistra per tornare in posizione il ginocchio non supera la punta del piede 5 4 3 2 1 cambio incrocio braccia gambe gambe divaricate e porta la mano al piede opposto inspira quando sali ed espira quando scendi 5 4 3 2 1 su slancio frontale alternato cerca di toccare il piede con la mano chiudi il corpo quando fai lo slancio sarà più facile ed efficace 5 4 3 2 1 cambia skip alto tocca le mani con le ginocchia per prendere il ritmo non andare veloce preparati per lo spostamento laterale verso destra 5 4 3 2 1 via vai verso destra sono 60 secondi movimento lento e controllato tieni le braccia in avanti per mantenere l'equilibrio spingi bene sulla gamba destra per tornare in posizione il piede destro è a 45 gradi ancora 20 secondi 10 5 4 3 2 1 cambia solo squat 30 secondi 5 5 4 3 2 1 via a sinistra 5 4 3 2 1 via a sinistra 5 4 3 2 1 via a sinistra 5 5 5 1 via a sinistro e a 45 gradi. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Slancio frontale alternato. Cerca di toccare il piede con la mano opposta. Se non arrivi al piede, tocca la caviglia. In questo esercizio non è importante la velocità, ma la perfetta coordinazione. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, skip alto e tocca le mani sotto le cosce. Sono 60 secondi. Ritmo e controllo. Sincronizza bene il movimento delle braccia con lo skip. Sali bene con le ginocchia. Il tallone della gamba d'appoggio è ben appoggiato a terra. Altri 15 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, calciata lenta ai gluti. Recupera. Fai questo esercizio lentamente per recuperare energie. Respira. Preparati per gli affondi indietro alternati. 5, 4, 3, 2, 1. Affondi indietro. Vai. Sono 60 secondi. Ritmo e precisione. Segui il ritmo del video e scarica il peso del corpo al centro del movimento. Mantieni gli addominali contratti. Il ginocchio non supera la punta del piede. Non mollare. Mancano 20 secondi. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ora recupera con l'ingrocio braccia-gambe. Gambe divaricate e mano al piede opposto. Tocca i piedi alternando le mani. Contrai gli addominali quando scendi. Preparati per la camminata laterale su mezzo squat. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Posizione di mezzo squat. Apri e chiudi. Cerca di aprire prima con una gamba, poi con l'altra. Mantieni il ritmo. 15 secondi. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Skip alto e tocca i talloni. Se non arriva ai talloni, porta le mani fino alle caviglie. Respira sempre durante l'esercizio. Preparati per squat più a fondo indietro alternato. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Squat a fondo a destra. Squat e a fondo a sinistra. Tieni un buon ritmo ed esegui bene lo squat. Completa correttamente lo squat prima di passare all'affondo. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ora gambe divaricate e scendi verso il tallone. Scendi bene e non andare veloce. Usa le mani per bilanciare il corpo. Tieni il bacino arretrato. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Braccia chiusa davanti al petto e ruota il tronco. Addome sempre contratto. Se non riesci, contrai gli addominali quando ruoti il tronco. 5, 4, 3, 2, 1. Resti in posizione. Mezzo squat e pugni. Inizia piano, poi accelera il movimento. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. Non distendere completamente il braccio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Ora spostamento laterale a destra, poi a sinistra e giù in plank. Via. Fai bene gli spostamenti laterali, poi completa la posizione di plank prima di risalire. Nel plank le braccia sono perpendicolari a terra. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Porta la gamba a sinistra e indietro. La mano destra a terra, poi risali e slancia la gamba destra. Non cercare la velocità. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Stesso esercizio dall'altro lato. Gamba destra e indietro. Mano sinistra a terra, poi risali e slancia la gamba a sinistra. Movimento fluido. Ancora 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Incrocio braccia-gambe. Inspira quando sali ed espira quando scendi. Perfezioni movimento controllando la zona lombare e quella addominale. Preparati per gli affondi indietro. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, affondo all'indietro. Sono 40 secondi. Segui il ritmo del video e scarichi il peso del corpo al centro del movimento. Mantieni gli addominali contratti. Il ginocchio non supera la punta del piede e mantieni lo sguardo davanti a te. Altri 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Ancora incrocio braccia-gambe. Gambe divaricate e scendi con il tronco. Questo esercizio lavora molto bene sui fianchi. Preparati per l'ultimo blocco di affondi. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Ultimo affondo indietro alternato. Sempre 40 secondi. Scendi bene e scarichi il peso al centro del movimento. Controlla il tronco con l'addome. Tieni un buon ritmo di esecuzione. Il ginocchio sfiora a terra. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Due torsioni e pugno. Facciamo fare una pausa alle gambe. Ruota bene il tronco senza esagerare. Concentrati sul ritmo e sulla respirazione. Fuori l'aria quando tiri il pugno. 5, 4, 3, 2, 1. Recupera. Step touch. 30 secondi. Riprendi fiato. Mancano solo 6 esercizi e terminiamo l'allenamento. Preparati per incrocio braccia-gambe più slancio alternato. 5, 4, 3, 2, 1. Via. Incrocio braccia-gambe. Sali. Slanci una gamba, poi l'altra. Senza fretta, ma fai bene il movimento. Cambia l'ordine dei calci. Prima inizi con la sinistra, poi con la destra. Controlla bene la zona lombare quando scendi. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Gambe divaricate e passo incrociato all'indietro. Fai un movimento ampio e controllato. Sincronizzi il movimento delle braccia con il passo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Ancora skip alto e tocco dei talloni. Massimo impegno. Non andare veloce. Se non arriva ai talloni, porta le mani fino alle caviglie. Respira durante l'esercizio. 20 secondi. Mancano solo 3 esercizi al termine. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora squat a fondo a destra, squat a fondo a sinistra. Controlla l'equilibrio. Massima concentrazione. Coordinazione, controllo e velocità. Preparati per l'incrocio braccia-gambe più slancio alternato. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia. Ancora incrocio braccia-gambe più calcio alternato. Massimo impegno. Questo è il penultimo esercizio. Incrocio destro e sinistro. Torna su e calcio destro e sinistro. Continua. Mancano 30 secondi. 20 secondi. 15 secondi. Dai, ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo esercizio. Solo squat. 30 secondi. Esecuzione lenta e perfetta. Bacino fino alla linea del ginocchio. Punta dei piedi leggermente verso l'esterno e ginocchio che non supera la punta del piede. Ultimi 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Il tuo allenamento è terminato. Begge. 6, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 1. 5, 5, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 9, 10. 6, 8, 10. 8, 11. 8, 11. 11.